Ed è partita! Diamo un bel applauso per Aurora! Buongiorno! Qui ovviamente in questa seconda match le difficoltà aumentano notevolmente. Brava Aurora! Eccola che velocissima affronta il pole. Bravissima! Lo ha fermato al volo. E' partita Valentina Aquarone. Little Leespanish il suo cavallo. All I wanna do is take you downtown baby. I'm wasted. All I wanna do is drive home to you baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown baby. All I wanna do is drive home to you baby. All I wanna do is drive home to you baby. All I wanna do is drive home to you baby. All I wanna do is drive home to you baby. I wanna do is drive home. All I wanna do. I wanna do is drive home. Bravo Valentina! E va a chiudere! ed è partito Fremdirk con Pepe bell'applauso per lui passo laterale realizzato eseguito siamo al barrel e adesso la strettoia siamo al quadrato e chiude Fremdirk con il tempo di 1.26.400 Alessia quando vuoi ed è partita Alessia Massone Kiss e Pitaco ed anche il passo laterale falzato a L a L qualche difficoltà al ponte ecco Alessia alla strettoia siamo al quadrato e va a chiudere Alessia Massone è partito Lorius asciutto a L a L a L a L a L a L Grazie a tutti Grazie a tutti Partita Sara Pastinelli e Paco Dacazala Passo laterale a vedere Eccola alla Barrel Sara Pastinelli è la nostra Campionessa Italiana Di categoria Categoria Open Nella gara di Reggio Emilia Si è laureata Campionessa Italiana Con un bel applauso per Sara Pastinelli Che arriva sull'ultimo stacolo Sul quadrato E va a chiudere Con il tempo di 1.06.655 Un netto Ed è partita Lucrezia Cuarone Bright Spanish Passo Il suo cavallo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti